Il Maggio dei Libri Il Maggio dei Libri Il Maggio dei Libri Ha indirizzato molte volte le sue osservazioni ai giovani e le proprie preoccupazioni e ha fatto ricorso molto spesso alla parola futuro, alla parola speranza ed è questo che è il risultato di una serata che veramente è stata coinvolgente per tutto il pubblico che ha riempito il teatro comunale di Massafra. La Biblioteca Comunale Paolo Catucci è da sempre impegnata nella promozione della lettura però è da tre anni ormai che aderiamo a questa campagna nazionale di promozione della lettura, di sensibilizzazione alla lettura promossa dal Centro per il Libro e la lettura. E questo perché? Perché la lettura è non soltanto uno strumento educativo fondamentale ma la lettura promuove il benessere della comunità, il benessere della popolazione. La lettura è uno strumento di evasione perché riusciamo ad essere ovunque leggendo e riusciamo ad essere anche delle persone che hanno come valore fondamentale della propria esistenza ma anche del proprio essere cittadino il rispetto per le altre persone. Abbiamo una ricca programmazione che vede oltre ai classici incontri con gli autori avremo laboratori per i bambini, laboratori creativi per i bambini, laboratori di fiaba psicomotoria, laboratori di lettura ad alta voce, nati per leggere. E avremo dibattiti, conferenze e infine il 31 maggio installeremo la prima Lidl Free Library a Massafra che è una casetta conterente dei libri assolutamente disponibili per la comunità e che attiverà il processo di book crossing, cioè dello scambio di libri. Questo tutto perché vogliamo diffondere il valore della lettura e il piacere della lettura nella comunità massafrese. Vogliamo che questo maggio dei libri sia veramente una ricchezza non soltanto culturale ma veramente per tutti i cittadini possano godere di questo momento di gioia, di una specie di festa della lettura. Grazie.